buuuuh 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 buuuuuh buuuuh dopo finirai su youtube Cristina ma tu stai per me EEE? E NOOO! Amore, papà, la carne, che buona, che buona, che buona la carne, eh sì, la carne, amm. E anche dopo la nonna ti darà a Briosk, quella che piace lo zio Lois? Una sola, portata via, amore, non posso dartela, non dico il cosa che posso fare, metà per te e metà per lei, ok? Sì, hanno dato il 32 di visto? Sì, ma per ora si è mandato a tutti. bravo